Amici di GZ, oggi prepariamo insieme un contorno davvero delizioso Ottimo da consumare, freddo, caldo, sopra del pane tostato Insomma, una di quelle ricette semplici ma versatili Peperonata, sta venendo una fame E deve essere il profumo di peperoni appunto della ricerca Partiamo da una bella base ritmica La padella è già calda, ci verso un bel giro d'olio Ora, due spicchi d'aglio già scamiciati Facciamo insaporire il nostro olietto Ora, le cipolle Per questa ricetta preferisco utilizzare quelle di Tropea Belle dolciastre perfette anche a crudine insalata Poi sai che fiatella, però Le faccio stufare per bene, senza fretta Teniamo il calore a temperatura media E per 15 minuti le mescoliamo ogni tanto In questo quarto d'ora rilasceranno la loro caratteristica dolciastra Perfetta ad abbinare i peperoni Nel frattempo, mi occupo dei peperoni Io ho trovato quelli gialli, rossi e verdi Sono pieni di vitamine, proprietà benefiche e antiossidanti Cosa aspetti tu che ancora non mangi i peperoni? Assaggia un peperone Vedrai Andiamo a tagliuzzarlo Andiamo adesi adesi così Possiamo già scartare i semi e alcune parti bianche Meno facili da digerire Metto bello comodo E ricavo delle strisciolone Ora tocca al cugino rosso E continuo con tutti gli altri Le cipolle sono stufate Aggiungiamo i peperoni Sale e pepe Una bella mescolata E copro Lasciamo cuocere per 15 minuti A temperatura media Dopodiché possiamo salutare i due spicchi d'aglio Che hanno fatto il loro dovere Ciao ragazzi E posso aggiungere la mia passata di pomodoro Una generosa mescolata Copro E lasciamo cuocere per altri 15 minuti Dopodiché possiamo impiattare Ed eccola qui la mia peperonata Dal profumo incredibile Colori accesi e sapore inconfondibile Qui sotto ti lascio il link Alla ricetta su giallo zafferano Dove troverai ingredienti, dosi e procedimento Passo passo Se ti è piaciuto questo video Metti un bel like E se hai qualche domanda Scrivila pure nei commenti Ti risponderò proprio io Ah, se ancora non l'hai fatto Iscriviti al canale E beh, peperonata Alla prossima Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti.